L'importante centro turistico delle isole Pontine, Bentotene è anche sede dell'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli ed ospita ogni anno in settembre più di 200 giovani provenienti da tutta Europa per una serie di giornate di dibattito e di studio sull'Unione Europea, sul federalismo e sulla democrazia internazionale, intercalate da momenti di relax sulle sue magnifiche spiagge. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!